Fino a primo tempo tra Borussia Dortmund e Red Devils, partita che vi vede in vantaggio per 8 litri a 0, partita perfetta, nulla da fare per gli avversari. No, effettivamente stiamo giocando molto bene, era una partita comunque sentita, siamo contenti con chi ti ha fatto questi gol, speriamo comunque di continuare perché comunque la partita dura 50 minuti e non 25. Va bene, si imbocca a lui. Appena terminato l'incontro tra Borussia Dortmund e Red Devils, partita terminata, 11 a 2 come nella regular season, super ordinate della vostra squadra. No, vabbè abbiamo giocato molto bene, abbiamo concesso pochissimi agli avversari, abbiamo giocato molto bene la palla, abbiamo cercato sempre di non buttarla via, di non sprecarla. E vabbè, ma abbiamo queste semifinale, speriamo di comunque... La semifinale contro IAC e Ciret è una gara molto difficile. È molto difficile, però comunque se ci impegniamo e diamo il massimo e non buttiamo mai via la palla e non sprechiamo troppe occasioni, penso che possiamo avere una crescente di passaggio. Va benissimo. Grazie. E te la medaglia di Mimicampo che sei le giocate, ricordiamo... Sei le giocato, bravo! E a chi la dedichi? A me! La dedico a tutta la mia squadra, a Mattia Cozzomina, a Carlo Pierro. E no, non c'entro. Va bene, si imbocca il po' per la semifinale. C'è la ragazza. No, senza c'è. 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 No, senza c'è.